Taglia corto, taglia corto come il film breve direi di Pia Francesco Campanella e adesso GR, lì nella regia Giuseppe Saboca e poi linea ancora a noi per continuare a parlare State ascoltando Radio Roma Suspiria dai demoni appunto da Claudio Simonetti per un tributo da Ergento però ritorniamo ancora a parlare di taglia corto però non tagliamo corto, continuiamo a parlare appunto di Jack Lametta e appunto che è il tema principale, l'ispirazione di questo film breve come appunto l'ho ribattezzato io oggi però adesso non voglio più chiamarlo cortometraggio, perdona Pia Francesco film breve film breve, ricordiamo, perciò cancelliamo qui cortometraggio film breve lo cancello proprio film breve, diretto da Pia Francesco Campanella scritto da Renzo De Luca, interpretato da Elisabetta Rocchetti, Cosimo Fusco, Emanuele Oliverio, Alberto Marino, Giampiero Cori che è per la prima volta sullo schermo Emi Bergamo che sta qui con noi alla tua destra Emi Bergamo è qui io so che sono dei progetti Emi, perché io poi so tu che devi lasciarci un po' prima della trasmissione perché prima della fine, tra l'altro più tardi sentiremo anche Elisabetta Rocchetti però abbiamo aspettato proprio per dare più spazio appunto a Emi ai presenti ai presenti, anche tu vai via? no no ah no? per questo, ti piacerebbe? no no, prima della fine no, dar più spazio a Emi perché giustamente lei va via poi facciamo subentrare Elisabetta parliamo dei progetti futuri di Emi progetti futuri allora, progetti futuri, ce ne sono tanti bisogna concretizzarli questi progetti però per adesso c'è il film con l'importante è che intanto siano in fase embrionale sì sì, sicuramente poi dopo c'è il parto, va bene l'allenatore del pallone 2 che sarà di Sergio Martino, Collino Banfi e sarà la prossima esperienza cinematografica che farò si registrerà il 21 agosto e andrà sul grande schermo penso verso Natale in più sto avendo una collaborazione molto importante con il grande maestro Vince Tempera che saluto speriamo insomma che questo progetto ci porti a Sanremo e ci porti avanti musicalmente quindi sì, mi piacerebbe tanto oltre a cantare e a ballare essere anche, diventare un'attrice ora iniziamo con questa collaborazione dopo Pierfrancesco Campanella con Sergio Martino e speriamo di continuare la collaborazione con Pierfrancesco Campanella assolutamente sì altri progetti e che quindi a questo punto si ricorderà della cara Emy al tempo opportuno no, volevo dire una cosa Emy facciamo un patto se vai a Sanremo io vengo con te ti accompagna ma quello sicuramente caro ti voglio in prima fila se vai a Sanremo verrò a Sanremo anch'io con te va bene, va bene che sia di buon auspicio sicuramente come lo sai stato lo sai che ci tengo tanto e sarebbe un sogno che tu vada a Sanremo dai speriamo però prima di andare a Sanremo dovresti fare un altro film lei lo interpreta e giudamente le porti fortuna così non apprendono più va sicuramente a Sanremo perché le porti fortuna no? speriamo speriamo prima di farremo con la mia presenza è già una garanzia è vero è vero è già una garanzia quindi questi sono i progetti insomma per il momento il bagaglino non si sa perché Pierfrancesco Pingitore io lo stimo molto proprio per questo non è una persona che parla molto che promette molto se dice è sempre dosato ciò che dice te lo dice sempre all'ultimo però è più bello proprio perché ti godi questa sorpresa vabbè adesso giustamente è in sintonia col copione dell'ospettacolo ovviamente eccoci siamo già arrivati in pubblicità pubblicità ci chiamo alla pubblicità salutiamo Amy in frattempo resta ancora resta ancora? resta ancora ok resta ancora poi mi saluto resta ancora sentiamo la pubblicità e poi rientriamo si Radio Roma al centro delle tue emozioni ritorniamo ancora in studio con la pubblicità che incombe purtroppo la pubblicità è da vivere se tu sei qui lo devi anche alla pubblicità anche se tu sei qui anche se possiamo ne sono consapevole di questo ma anch'io però purtroppo nello stesso tempo ci interrompe quello che il discorso tra l'altro Amy stava parlando voleva parlare e ha detto mannaggia la pubblicità che adesso mi interroge ci ha anche consentito di prendere una boccata d'aria di refrigerarci un po' di bere delle squisite bevande che tu ci hai gentilmente offerto quindi anche quello serve bene torniamo a parlare di tagliacorto tagliacorto Amy Bergamo tra i protagonisti tra i protagonisti appunto di tagliacorto ogni sera è stato proiettato alla casa del cinema di Roma via Veneto Villa Borghese Largo Marcello Mastroiani uno Largo Marcello Mastroiani infatti c'è questa bellissima foto diciamo gigantografia di Marcello Mastroiani di un presso è veramente un posto bellissimo è un posto bellissimo per fare una serata per fare io ero terrorizzato devo dire la verità perché è sempre un'emozione quando proponi una cosa non sai la gente come reagisce c'erano due ricevimenti ieri sera il tuo e un altro sotto sì e io naturalmente ho sbagliato il ricevimento ecco e c'era dubbio anche altre persone ha saputo che insomma hanno in compenso noi abbiamo avuto molti imbucati nel nostro buffet abbiamo avuto molti imbucati dell'altra proiezione sì sì non lo sapevo c'è stata questa specie di osmosi tra i due io non l'ho assaggiata perché mi si era chiuso lo so c'era una pasta di setanini che era buonissima divina la tua sì io non l'ho assaggiata io no perché sono arrivato e Pia Francesco mi ha spinto in sala letteralmente in sala dicendo vai a vedere subito la cosa guarda eccomi qua sono arrivato ero appena entrato pubblicizzo il buffet di ieri perché è stato favoloso bene torniamo ancora a parlare Pia Francesco parliamo ancora di Jack Lametta sì tu all'epoca come hai vissuto questa cosa te l'ho detto un po' divertito in un certo senso perché vedo tutte le mie amiche terrorizzate tutte le mie amiche che non uscivano la sera prendevano precauzioni un po' mi faceva ridere perché trovavo eccessivo tutto questo francamente una psicosi forse esagerata e niente poi mi ritrovavo perché le tue amiche tu hai detto però c'erano anche personaggi di sesso maschile anche tu in qualche modo però chiaramente le donne sono più esposte e poi sono anche più indifese tu non avevi paura di andare in giro no figura se Jack Lametta sta a pensare giusto a me parli bene perché sei un uomo però se io ero una donna colpiva anche gli uomini colpiva anche gli uomini le donne più che altro di giorno gli uomini sembra più nelle ore diciamo più tardi però io sono uno positivo non pensa mai alle disgrazie a me avrebbe terrorizzato non sono una cosa del genere veramente non sarei veramente più uscita di casa esagerata veramente oddio non l'ho vissuta però se era così come mi stanno raccontando comunque tenendo anche alla mia incolumità certo ovvio avrei avuto tanta paura sicuramente sì poi magari si era diffusa anche una certa psicosi perché alla fine alla fine se vai a vedere nella statistica ecco nel proprio percentuale se alla fine quando uno esce è sempre a rischio a rischio anche di aggressioni di rapine voglio dire nel caso dell'omicidio nella metropolitana quello con l'ombre nell'occhio è emblematico eppure non c'era c'era neanche la metropolitana al giorno d'oggi perché può succedere di tutto in qualsiasi momento certo c'erano dei casi insomma di tre persone quattro al giorno a pronto soccorso quindi voglio dire è una media abbastanza alta però se facciamo proviamo a pensare quante donne vengono violentate ogni giorno e forse la stessa cosa poi probabilmente la media sarà quella poi calcola che la maggior parte dei casi non si denunciano che sono violentate non sono denunciate certo quello è il problema però anche quello è un fenomeno che sta aumentando parecchio soprattutto tra i giovanissimi e poi la violenza di branco della ripresa tramite il cellulare che riprendono i filmati anche questo è un fenomeno abbastanza inquietante quelli sono le come dire i lati negativi della tecnologia che avanza chiaramente sì e poi anche il fatto che vedo che i giovanissimi hanno meno rispetto della scuola come istituzione meno rispetto degli insegnanti ma sono anche gli insegnanti che non fanno non fanno sì che ci sia questo rispetto comunque perché come noi che siamo una generazione più aperta anche loro comunque si sono un po' adeguati a questa generazione a questa apertura e quindi di conseguenza tra la tecnologia che ha rovinato completamente tutto e loro che si sono un po' più aperti adattati e noi che siamo avanzati sicuramente non beh però nelle scuole stanno succedendo parecchi fattaci sì no ma sicuramente però questo è un fenomeno abbastanza non sono solo giovani secondo me no 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 è un po' tutto però ecco in particolare mi colpisce negli ultimi tempi tutta una serie di eventi che sono avvenuti nelle scuole sì comunque diciamo che forse i bambini io ho visto la domenica in addirittura un filmato in cui una maestra si faceva tastare il sedere da un alunno ma quando mai ai tempi miei potrebbe succedere una cosa del genere ma però c'è un discorso non reagiva tranquillamente questo andava giù con sta mano pesante e questa non reagiva non aveva la mia ragazzi dico ma qui non sei accorta ma possibile ragazzi quindi c'è un qualcosa che nella scuola oggi come oggi non funziona ci sono dei malesseri perché certe cose sono al di là del bene e del male dai non pensi che adesso però c'è stata la possibilità di filmarlo con un telefonino magari queste cose succederebbero ma quando mai a scuola io non mi sento vecchio però ti posso garantire che quando andavo a scuola io queste cose erano pura fantascienza ma quando mai è successo in una scuola è stato un caso però a parte che non è un solo caso ci sarà più addirittura quella professoressa che si è portati i 3-4 ragazzi nell'orario di educazione fisica si è portati a fare delle ripetizioni matematici ma adesso è un anche per te